Le urla, le lacrime, il tranquillo mezzogiorno della centralissima piazza Castello viene scosso dalle grida di una donna. Sul posto arrivano in pochi minuti un'ambulanza, il camion dei vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri. In un primo momento la situazione sembra difficile da ricostruire. C'è un uomo che ha tentato di buttarsi dalle scale fuori dal portone e una signora con il volto sanguinante. Mentre i pompieri e i medici del 118 soccorrono i feriti, i carabinieri della caserma di Prato della Valle cercano di ricostruire l'accaduto. Pochi minuti prima, in uno degli appartamenti, c'era stata una lite, due coniugi in crisi da tempo. I toni degenerano e il marito ferisce l'avvocato di famiglia, poi tenta il suicidio facendosi cadere dalle scale. Ferito viene subito trasportato d'urgenza in ospedale, la moglie è in stato di shock. L'avvocato, ferita al volto, viene medicata sul posto e ascoltata dai carabinieri.